Importare su G4More le tracce salvate sui device GPS è possibile mediante due metodologie. La prima è possibile se il device GPS è collegato al PC mediante cavo USB. Lanciando un'applicazione esterna all'interfaccia G4More ma compresa nell'applicativo, si aprirà una finestra nella quale dovrà essere selezionato il modello di device GPS utilizzato, la porta al quale è collegato e se si vuole scaricare sul G4More della demo online oppure sul G4More locale, se l'inserire è in possesso. Cliccando il tasto Apply, le tracce salvate sul device GPS verranno visualizzate nell'apposita schermata anteprima tracce G4More. Altrimenti, se il file in formato GPX presente nel device GPS è stato precedentemente salvato sul PC, basterà aprire la finestra G4More gestionale sotto la voce Download Area e Upload Tracce e aprendo la sotto finestra Upload Tracce, cliccando sul tasto Scegli file, si potrà aprire direttamente il file GPX precedente salvato nel PC. Ad esempio, in questo caso, apriamo File Test QGIS, cliccando il tasto può essere assegnata alla squadra che ha effettuato il percorso, si possono inserire delle note e cliccando il tasto Importa verranno importate nell'applicativo le tracce presenti nel file. Appena l'operazione di importazione verrà ultimata, un messaggio di operazione completata verrà visualizzato. Cliccando il tasto di scollegamento a tracce caricate verrà aperta la sotto finestra gestione tracce caricate nella quale possono essere visibili tutte le tracce presenti nel file in formato GPX. A questo punto, facendo lo zoom su ognuna delle tracce, si potrà scegliere quale delle tracce rendere visibile oppure nascondere ed addirittura eliminare. Si può assegnare una squadra ad ogni singola traccia, modificare per inserire delle annotazioni e a questo punto, se si va sulla G4More Cartografia, saranno visibili, aprendo il layer tracce, accendendo il layer tracce, saranno visibili le tracce importate dal device GPS.